Il premio Molle degli Dei, secondo del convegno, otto i concorrenti alla via, ancora protagonisti gentlemen, la macchina ha completato la curva di sinistra, sta ora per entrare nella retta opposta alle tribune dove avverrà il lancio, lo stacco dall'esterno è molto veloce, Marina di Pisa, Marina che cerca di scendere allo steccato e la manovra riesce davanti a Noodles BF, terza posizione allo steccato per Lobos, poi ancora Nuvola Stella, 13,5 i primi 200 metri, ingresso del passaggio di fronte alle tribune con Marina di Pisa al comando, 29 spiccioli per i primi 400 metri. Di rincalzo Noodles su Lobos, poi Nuvola Stella, ancora Miele dell'Orso, risale all'esterno Mozart-Rivarco, quindi Nora Sprayplo con allargo Numa-Pompilio, 45 appena abbondante per i primi 600 metri, Marina di Pisa in vantaggio, Nudos di rincalzo, poi Lobos coperto da Mozart-Rivarco. Completata anche la seconda curva, Marina entra al comando sulla retta opposta alle tribune e chiude il primo chilometro sul piede dell'1,16,5. Noodles di rincalzo, allargo Mozart-Rivarco seguito dallo Bosch e chiude allo steccato Nuvola Stella. Mancano 400 metri al termine, Marina di Pisa in vantaggio, 14,7 la retta opposta, allargo Mozart, in corda, Noodles BF, ancora Nuvola Stella e Lobos, quindi Miele dell'Orso e Nora Sprayplo, ingresso alla retta di arrivo, Marina al comando, Mozart prova l'attacco di dentro Noodles, all'esterno Lobos, Marina, Mozart che insiste all'esterno, Mozart attacca, Marina prova la difesa, Mozart persevera nell'offensiva, poi sbuca dalla corda anche Nuvola Stella insieme allo Bosch sul palo, Mozart, Marina, Nuvola, Lobos, Noodles, tutti nel classico fazzoletto con Mozart forse prevalente di misura su Marina di Pisa, rivediamo la retta di arrivo, soprattutto gli ultimi 50 metri con la telecamera posta in linea con il traguardo, è la sensazione nettissima, anzi direi proprio l'immagine, farla chiaro, è Mozart che quasi di una testa la spunta su Marina di Pisa, terzo posto per Nuvola Stella, Mozart-Rivarco, Roberto Barzi, Alessandro Baldi e i colori della scuderia Pavi, la media intorno all'1,16, la quota del totalizzatore.